La SBA torna al Palace Porta Estra contro il Lucca con tanta voglia di riscatto. L'appuntamento è per sabato 11 marzo alle 19 quando l'Amen Scuola Basket Arezzo scenderà in campo contro il Basketball Club Lucca che nelle ultime 5 giornate ha conosciuto solamente vittorie. Di contro l'Amen ha assoluta necessità di lasciarsi alle spalle la partita di alto pascio per mantenersi alle spalle delle formazioni che si giocheranno la promozione diretta nel campionato interregionale. Lucca ha dato fiducia in panchina al giovane Nalin che con il passare delle giornate ha saputo trasformare la formazione bianco-rossa. Il miglior realizzatore è l'ala Simonetti con oltre 15 punti a partita ma anche altri 4 giocatori viaggiano oltre la doppia cifra di realizzazione del debio Burgalassi, Tempestini e Lippi.